Il prossimo 25 settembre parte il premio internazionale per la fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo. La madrina del premio della serata di premiazione sarà Violante Placido, ci saranno tutti i direttori della fotografia premiati e ci sarà anche Mimmo Lucano per ritirare la targa Marco Pannella per la solidarietà e integrazione. Un programma ricchissimo come sempre, Presidente. Sì, tra l'altro ci sarà anche la nostra concittadina Elisa De Usagno che sulla crescita dell'Onda ha girato ultimamente il film con Carlo Verdone. Ma a parte i personaggi, questo è un premio che include tantissimi operatori di chi fa cinema, la settima arte. Quindi si svolgerà mostre di pittura, la mostra su Sergio Leone, la presentazione di libri, cerchiamo veramente, abbiamo cercato di fare di tutto e di più per quello che riguarda la nostra, con i pochissimi mezzi che abbiamo, perché non è che si può lavorare tranquillamente. Ci sarà tanta musica, quest'anno abbiamo ripristinato la banda di Mondorio con le musiche da film il venerdì e la domenica e il sabato verrà la banda di Forcera ad accogliere gli ospiti. Il giovedì abbiamo coinvolto tutti i nostri concittadini. Cioè l'opera che sta per una serata musicale, quello che l'associazione ha fatto, porta avanti, cerca anche di essere un piccolo esempio e di essere inclusiva, di coinvolgere, per fortuna abbiamo coinvolto quasi tutta la città. Mancano però un po' di fondi strutturali, chiamiamoli così. Sì, fondi strutturali che noi avevamo fino a 12 anni fa, da 12 anni fu abolita la legge, perché io ho parlato anche con il dirigente, è stata la più grande cavolata perché questa legge aveva un budget per tutto l'Abruzzo, nemmeno di 200 mila euro e ogni anno deve aspettare la carità di qualcuno. Qualcuno inteso gli enti o gli sponsor privati? Ma gli sponsor, noi è una città che non abbiamo industria, per fortuna gli enti, la Camera di Commerci, il BIM, ci sono la fondazione, si cerca veramente di portare avanti questa manifestazione che è conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo. Se viene qua il presidente degli Oscar, quello che dà gli Oscar, è un riconoscimento non da poco. Sono venuti veramente, l'anno scorso venivano i direttori di fotografia di Roma Polasche per dirne, ma sono venuti, abbiamo un curriculum che fa onore alla città soprattutto, noi come Teramo Nostra siamo solo gli operatori che si impegnano.